Posso avere il conto per favore? Quanto tempo sei stato qui? How long have you been here? Grandi menti pensano allo stesso modo. Great minds think alike. Ha sparato al leone con una pistola. Ha sparato al leone con una pistola. Questa penna non scrive bene. This pen doesn't write well. Felice di conoscerti. So come ti senti. I know how you feel. Sono estremamente occupato. I'm extremely busy. Non è un mio problema. Prova a vederlo a modo mio. Try to see it my way. Try to see it my way. Vuoi essere mia moglie? Will you be my wife? Will you be my wife? Mi pento delle mie azioni. I regret my actions. I regret my actions. Ho perso un giorno intero. I wasted a whole day. Posso usare il tuo telefono? May I use your phone? Sì, è ora di pranzo. Yes, it's lunchtime. Yes, it's lunchtime. Posso prendere il vostro ordine? May I take your order? Nessuno lo sa per certo. No one knows for sure. No one knows for sure. Il mio dente mi sta uccidendo. My tooth is killing me. My tooth is killing me. Ogni piccolo aiuto. Every little bit helps. Every little bit helps. It's your duty to do that. Posso avere la mia indennità? May I have my allowance? May I have my allowance? Questo whisky è forte. This whisky is strong. This whisky is strong. A che ora inizia? What time does it begin? What time does it begin? Will you come to my party? Will you come to my party? Non ho un termometro. I don't have a thermometer. I don't have a thermometer. Mi vergogno di averlo fatto. I'm ashamed that I did that. I'm ashamed that I did that. Questa è la parte difficile. That's the difficult part. That's the difficult part. That's the difficult part. Ti dispiacerebbe se fumassi? Would you mind if I smoked? Would you mind if I smoked? Hai un menu in francese? Do you have a menu in French? Do you have a menu in French? Stai cercando di liberarti di me? Are you trying to get rid of me? Are you trying to get rid of me? Hai quello che ti stava succedendo. You got what was coming to you. You got what was coming to you. Potresti dirmi quando scendere? Could you tell me when to get off? Could you tell me when to get off? Che tipo di musica ti piace? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Prenderò una tazza di tè, per favore. I'll have a cup of tea, please. I'll have a cup of tea, please. Dove è la stazione degli autobus? Where is the bus station? Where is the bus station? Che giorno della settimana è? What day of the week is it? What day of the week is it? Ha un reddito elevato. He has a large income. He has a large income. Accettate carte di credito. Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? È capace di qualsiasi crimine. He is capable of any crime. He is capable of any crime. He is capable of any crime. Mi stavo occupando di Sally. I was taking care of Sally. I was taking care of Sally. C'è un ponte sul fiume. There is a bridge over the river. There is a bridge over the river. Vedi, te l'ho detto. Sì, I told you so. Sì, I told you so. Ha una mente veloce. Ho fatto tutto ciò che potevo fare. I did all I could do. I did all I could do. Sto morendo dalla voglia di vederla. I'm dying to see her. I'm dying to see her. Sono molto impegnato adesso. I'm really busy now. I'm really busy now. Non possiamo parlarne? Can't we talk it over? Can't we talk it over? Ho tenuto la bocca chiusa. Sono un fan del baseball. I'm a fan of baseball. I'm a fan of baseball. Sto cercando un lavoro. Sono ancora indeciso. I'm still undecided. I'm still undecided. È una giornata meravigliosa. È una giornata meravigliosa. È una giornata meravigliosa. È una giornata meravigliosa. Non essere estremo. Let's not be extreme. Let's not be extreme. Smetti di prendermi in giro. Qual è la tua canzone migliore? What's your best song? What's your best song? Me ne ha raccontato tutto. He told me all about it. He told me all about it. Che ne dici di un caffè? How about some coffee? How about some coffee? Vivo in un appartamento. Vivo in un appartamento. I live in an apartment. Penso che sia incinta. I think she's pregnant. I think she's pregnant. Sono di buon umore oggi. I'm in a good mood today. I'm in a good mood today. Posso chiedere chi sta chiamando? May I ask who's calling? May I ask who's calling? Il mio libro è stato pubblicato. My book was published. My book was published. Questo è quello per cui sono qui. That's what I'm here for. Perché non fai un pisolino? Why don't you take a nap? Why don't you take a nap? Arriva al punto, per favore. Get to the point, please. Mi ha trattato male. He treated me unkindly. Come sono andate le cose? How did things turn out? Sento che sto per vomitare. Penso prima a mia moglie. È soffocante in questa stanza. È soffocante in questa stanza. È soffocante in questa stanza. Questo deve essere molto divertente. Questo deve essere molto divertente. Questo deve essere molto divertente. Posso aiutarti a portarlo? Can I help you carry that? Can I help you carry that? Tutto andrà bene. Everything will be fine. Everything will be fine. Non voglio essere un leader. I don't want to be a leader. I don't want to be a leader. Parliamone più tardi. Let's talk about it later. Il mio canto è stonato. My singing is out of tune. Si prega di abbassare il volume. Please lower the volume. Please lower the volume. Due e tre fa cinque. Two and three makes five. Two and three makes five. A che ora sarà finita? What time will it be over? What time will it be over? Stai facendo colazione? Are you having breakfast? Are you having breakfast? Potresti parlare, per favore? Could you speak up, please? Could you speak up, please? Do you have plans tonight? Do you have plans tonight? Do you have plans tonight? Come hai bruciato la tua mano? How did you burn your hand? How did you burn your hand? Non voglio la tua gentilezza? I don't want your kindness. I don't want your kindness. Lascia che ti dica una cosa. Let me tell you something. Let me tell you something. Sei disponibile stasera? Are you available tonight? Are you available tonight? Hai un ragazzo adesso? La tua gentilezza è indesiderata. Your kindness is unwanted. Ci sono costi aggiuntivi? Are there any extra charges? Puoi aspettare fino al prossimo mese? Puoi aspettare fino al prossimo mese? Vorrei che non fosse mai successo. I wish it had never happened. I wish it had never happened. C'è un autobus per l'aeroporto? Is there a bus to the airport? Is there a bus to the airport? Non importa qualcuno come te. Never mind someone like you. Never mind someone like you. Non puoi farmi sembrare stupido. You can't make me look stupid. Ha mandato qualcuno a vederti. Did he send someone to see you? Did he send someone to see you? When is it convenient for you? When is it convenient for you? Ci sto. Il mio cellulare non funziona. Il mio cellulare non funziona. My cell phone doesn't work. My cell phone doesn't work. Hai il numero per un taxi? Do you have the number for a taxi? Do you have the number for a taxi? Do you have the number for keep on track? Have the number for a taxi? If an us can reach out to you here... Grazie.